Musica Acqua, salibori e faro a secco da una settimana, inascoltate le lamentere dei cittadini, Mecozzi corre a ripari, dito puntato contro i consumi di Acqua Felix. Emergenza zanzare all'ospedale San Paolo, il capogruppo PDL Sandro De Paoli slancia l'allarme, l'assessore Galletta pronta ad intervenire. Forte la questione della mancata iscrizione del Civitavecchia a calcio fa arrabbiare il sindaco T-Day che rompe con un comunicato stampa agguerrito. E ben trovati dal telegiornale Alto Lazio, in primo piano la questione acqua e quartieri di salibori e faro a secco da una settimana, inascoltate le lamentere dei cittadini, l'assessore Mecozzi corre a ripari e chiede conto ad HCS, dito puntato contro i consumi di Acqua Felix, sentiamo. La portata idrica sarà aumentata, entro stanotte i serbatoi saranno pieni. Questo ha assicurato ieri l'assessorato e i lavori pubblici, replicando alle segnalazioni degli abitanti delle zone di San Liborio e Cisterna Faro, dove l'acqua nelle case manca ininterrottamente da una settimana. A nulla sono servite le lamentele dei residenti, insoddisfatti anche del servizio autobotti del comune, che a quanto pare il venerdì smetterebbe di funzionare per poi riprendere il lunedì. Da gennaio siamo rimasti a secco per ben 138 giorni, si legge in una nota trasmessa al sindaco e per conoscenza agli organi di informazione dal comitato cittadini Cisterna Faro. Tutto ciò le sembra giusto? Altro che ritorno al futuro, qui si va indietro di decenni. E sempre nella lettera rivolta al primo cittadino, il comitato chiede conto dell'attività portata avanti dagli assessori. Di indicazioni lei, signor sindaco, su come e quando potersi lavare e bere, prosegue la lettera, altrimenti verremo a lavarci a casa sua, siamo certi che non ci negherà un po' di acqua. Il comune ha fatto poi sapere che in via Terme di Traiano la situazione stava tornando alla normalità, tanto che già da oggi, stando alle dichiarazioni rese dall'assessorato ai lavori pubblici, l'acqua nelle case dovrebbe tornare. Poco gradita l'ironia di chi dall'assessorato ha tentato di dare una spiegazione al problema, affermando o i civitavecchiesi si sono lavati tutti insieme, o c'è stata una carenza nella fornitura da parte di HCS. Carenza che a quanto pare non c'è stata, dal momento che la holding fornisce da sempre e sta continuando a fornire fra i 110 e i 120 litri secondo al comune, che poi utilizza come meglio crede. Sarebbe interessante capire a questo punto come mai i propri partitori di Poggio Capriolo abbia ceduto. Forse l'assessorato ai lavori pubblici ha ragione, i civitavecchiesi hanno fatto il bagno tutti insieme, magari all'Acqua Felix, parco acquatico servito proprio da quel partitore, che di sicuro utilizza un quantitativo di litri secondo superiore a quello sufficiente per alimentare una comune abitazione. Ma il comune non ne parla, i cittadini soffrono la carenza idrica e non possono neppure lavarsi mentre l'acqua viene usata per altri scopi. Nulla contro i giochi acquatici, ma magari dopo aver dato a tutti i cittadini, ma proprio a tutti, la possibilità di usare l'acqua almeno per lavarsi. Emergenza zanzare all'ospedale San Paolo di Civitavecchia. Lo sottolinea il capogruppo PDL, Sandro De Paulis, che punta il dito contro l'amministrazione T-Day, colpevole a suo dire di aver dimenticato i problemi dei degenti dell'ospedale. Pazienti che, ha spiegato, oltre a soffrire per le condizioni che li hanno portati a ricovero e per il caldo, si trovano ad essere aggrediti dalle numerose zanzale che invadono la struttura. Si tratta di una vera e propria infestazione, dovuta senza dubbio anche alla presenza di un terreno incolto in prossimità dell'ospedale, che sicuramente è il ricettacolo di molti insetti. Da qui la richiesta di un intervento immediato, replica all'assessore Galletta. Le zanzare derivano dalla mancata pulizia del fosso e fa sapere che se il proprietario non interverrà al più nella pulizia, il comune invierà delle ruspe per abbattere il canneto e disinfestare la zona con procedura d'urgenza e in danno. Ed ora parliamo di HCS, un giudizio di responsabilità nei confronti degli amministratori di HCS e delle SOT. Anche questo aspetto, a quanto pare, è contemplato all'interno della delibera che punta a fare chiarezza su ciò che è accaduto in questi anni all'interno delle partecipate. Un punto chiaro che, su richiesta del sindaco Pietro Tidei, potrebbe presto mettere con le spalle al muro i vertici di HCS e delle SOT. Ai provvedimenti disciplinari, nei confronti dei dirigenti delle municipalizzate, alla trasmissione dei bilanci alla procura della Repubblica, questa volta si aggiunge un'azione senza precedenti. Gli amministratori saranno chiamati a rispondere del loro operato al vertice delle società. Si tratta di quattro figure rispettivamente al vertice di HCS e delle tre SOT. La procedura però appare abbastanza complessa. Occorrerà prima acquisire tutti gli atti per poter stabilire eventuali omissioni, tanto da legittimare l'attuazione di un giudizio di responsabilità. Incontro sulla mensa scolastica tra il delegato Rita Stella, il capo di gabinetto dei felici e le rappresentanze dei genitori, nel corso del quale emersa la volontà di prevedere dei risparmi per i cittadini e di permettere a tutti i bambini di usufruire del servizio. La filosofia giusta ha spiegato dei felici e quella del pagare tutti e pagare meno. Furti, giro di vite della polizia, arrestato un bosniaco in centro, fermati due nomadi a San Gordiano. Denunciate altre tre persone nel corso dell'ultimo fine settimana. Sentiamo il servizio. I cittadini chiedono aiuto e le forze dell'ordine rispondono. I furti in città sono diventati un problema serio, non singoli episodi sporadici, ma un'escalation di colpi messi a segno soprattutto in quartieri come Boccella e San Gordiano. E così le forze dell'ordine hanno incrementato i controlli sul territorio. Nel corso dell'ultimo weekend la polizia ha messo in campo un'intensa attività che ha portato risultati importanti. Due nomadi, entrambi con numerosi precedenti, sono stati fermati a bordo della propria vettura dove sono stati rinvenuti attrezzi da scasso, solitamente utilizzati per forzare porte o tagliare inferiate e grate. Un grosso cacciavite, guanti del tipo da giardinaggio, un piccone con il manico di legno ed un frullino con tre dischi per tagliare il ferro. Il materiale è stato sequestrato e i due nomadi sono stati indagati in stato di libertà. Fermato anche un quarantenne siciliano responsabile di un furto messo a segno a Civitavecchia a maggio. Anche per lui una denuncia in stato di libertà con la refurtiva, un telefono cellulare, recuperato in attesa di essere riconsegnato al proprietario. Per un 32enne residente a Napoli, con numerosi precedenti penali per furto, allontanamento da Civitavecchia con foglio di via obbligatorio e con divieto di farvi ritorno per un anno, si aggirava, senza una motivazione, per le vie del centro. Arrestato anche un 19enne pluripregiudicato bosniaco, il ragazzo è stato sorpreso mentre fuggiva da un'abitazione del centro, dove si era introdotto ed aveva poco prima tentato un furto. A metterlo in fuga il proprietario di casa, mentre il 19enne cercava di scappare, è incrociato un agente di polizia che, vedendolo uscire dal condominio correndo, lo ha bloccato. Per lui è scaltato l'arresto con i residenti della zona, che lo hanno indicato anche come l'autore di un altro furto, avvenuto nello stesso pomeriggio. Il Tribunale di Civitavecchia si salva dalla mannaia del governo, una vittoria per il territorio, che impone di rimboccarsi le maniche, riorganizzando e migliorando i servizi, soprattutto alla luce della chiusura della sede di staccata di Bracciano e dei giudici di pace di Fiumicino, che verrebbero così accorpati a Civitavecchia, che già più volte ha lamentato la carenza di personale e l'inadeguatezza di alcuni uffici. A settembre verrà eseguita una nuova ispezione del Ministero della Giustizia e in quell'occasione, probabilmente, si potrà verificare la situazione attuale e programmare il futuro. Un palazzo di giustizia che, in realtà, ha rischiato di essere inserito tra i tribunali da sopprimere. Per numero di magistrati rientravano in quelli da salvare, ha spiegato il presidente Mario Almerighi, ma il problema era nel bacino di utenza. Il dato preso in considerazione era fermo al 2001 e indicava 240.000 abitanti. Il parametro del Ministero si attestava a 350.000. Ho disposto un nuovo calcolo, aggiornato, e siamo arrivati a 300.000, ma soltanto residenti. Non si poteva non prendere in considerazione il porto di Civitavecchia e l'aeroporto di Fiumicino di nostra competenza. Sopra il luogo dell'assessore ai lavori pubblici Mirko Mecozzi al mercato di Campo dell'Oro, per verificarne le condizioni. Primo intervento da mettere in campo la copertura dell'intera struttura, che, come denunciato più volte dagli operatori di Campo dell'Oro, ha diverse falle che, soprattutto in inverno, causano allagamenti. È stato ritrovato su una spiaggia del litorale il subpolacco di 39 anni, dato per disperso dopo essersi immerso nelle acque di Santa Severa. L'uomo, dopo la sbornia, si sarebbe immerso. Una volta fuori dall'acqua, si sarebbe messo a dormire. Sulla spiaggia è rientrato l'allarme che ha visto gli uomini della Capitaneria di Porto intervenire anche con l'ausilio di un elicottero della Guardia di Finanza. Dopo 35 minuti il polacco è stato ritrovato. E gli uomini della squadra nautica di Fiumicino nella giornata di ieri hanno effettuato controlli anti-abusivismo commerciale nella zona del litorale tra Fiumicino e Maccarese. Il fenomeno, gestito in prevalenza da stranieri e diffuso sulle spiagge del litorale, oltre a comportare un danno per l'erario, costituisce una concorrenza illecita agli operatori commerciali che operano nel rispetto della normativa vigente. Effettuati 16 sequestri di merce a fronte di altrettante sanzioni amministrative combinate ai venditori risultati sprovvisti dei requisiti. Capi d'abbigliamento, calzature, occhiali, borse, braccialetti, collane ed articoli da spiaggia, gli articoli maggiormente recuperati. Oltre 3.000 pezzi sequestrati per un valore commerciale di circa 30.000 euro. La merce sequestrata, dopo la ratifica del decreto di sequestro da parte del comune di Fiumicino, verrà donata agli enti preposti sul territorio per l'assistenza e beneficenza sociale. I controlli della polizia anche a Tarquini a Montalto di Castro e Pescia Romana al fine di dare più incisivo impulso all'attività di prevenzione sul litorale. Nel corso dei controlli che hanno interessato soprattutto i quadranti serali e notturni, gli uomini del commissariato di Tarquini e della polizia stradale hanno monitorato in particolar modo le principali arterie stradali di accesso alle località turistiche dove sono stati attuati numerosi posti di controllo. In occasione dei servizi sono state identificate 93 persone, controllati 51 veicoli con contestuale interrogazione e consultazione della Banca dati delle forze di polizia, elevate 12 contravvenzioni al codice della strada, da ritirate 7 patenti di guida di cui 5 per guida in stato di ebrezza e 2 per violazioni amministrative penali in fase di accertamento. Ulteriori controlli sono stati già pianificati e verranno attuati sul litorale nelle prossime settimane sia per capillarizzare al meglio la vigilanza sul territorio al fine di prevenire la commissione dei reati in quella zona sia per combattere il fenomeno della guida in stato di ebrezza alcolica. E anche quest'anno per assicurare ai nostri cittadini e ai turisti un tranquillo utilizzo del nostro mare, l'amministrazione comunale di Ladispoli ha approvato un progetto estivo per la sicurezza delle spiagge del mare. Parola del sindaco Crescenzo Paliotto, unitamente al vice sindaco e assessore alle risorse del mare e della costa Giorgio Lauria che hanno spiegato che l'iniziativa ormai da anni unitamente all'asso balneari di Ladispoli e Marina di San Nicola assicura la presenza di personale specializzato sugli arenili. Il progetto, coordinato dal gruppo di protezione civile Dolphin Sommozzatori e proseguito Pagliotta, prevede due postazioni fisse, una a Marina di San Nicola e l'altra sul lungomare Marina di Palo con a disposizione delle unità operative specializzate nel salvataggio in mare con l'ausilio di moto d'acqua barellata per portare agevolmente i soccorritori. L'obiettivo è quello di controllare gli arenili ed effettuare pattugliamenti in mare. Inoltre nella postazione di Marina di Palo vi è sempre una squadra di sommozzatori specializzata nei soccorsi con un gommone attrezzato per eventuali incidenti in mare. Il tutto sempre sotto la diretta e competente visione dell'ufficio locale marittimo di Ladispoli comandato dal capo Alessandro Maracchioni. E mari inquinati nel nostro litorale. Secondo quanto emerso dal monitoraggio dei biologi di Goletta Verde di Legambiente dalla provincia di Viterbo a quella di Latina, il sistema depurativo regionale presenta delle evidenti falle. Nel litorale Capitolino i valori batteriologici più alti che hanno decretato i punti come fortemente inquinanti sono stati registrati nel comune di Santa Marinella, esattamente a Santa Severa, presso il canale sul lungomare Pirgi all'incrocio con Viale Olimpio. Nel comune di Cervetri, in località Campo di Mare, presso il fosso di Zambra. Nel comune di Ladispoli, presso la foce del rio Vaccino. A Fiumicino, presso la foce del Tevere, critica anche la situazione in provincia di Viterbo, nel comune di Montalto di Castro e in località Chiarone. Il prelievo compiuto presso la foce del fiume Chiarone è risultato inquinato. Peggio ancora a Tarquini e in località Lido, dove i valori batteriologici, oltre la norma, secondo Legambiente, indicano che le acque sono fortemente inquinate. Oggi alle 17.30, presso l'Aula Auditorium del Comune di Allumiere, si svolgerà l'Assemblea pubblica e il Megadigessore Cavallo di Troia per la Megadiscarica, organizzata dai comitati e dalle associazioni No Megadiscarica. L'iniziativa intende promuovere un'azione di sensibilizzazione e informazione relativa al progetto di realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti pari a 70.000 tonnellate annue, presentato alla provincia di Roma, alla Regione Lazio e al Comune di Allumiere, dalla società Renner Vast SPA. E parliamo di sport. Un'altra giornata di fuoco sarà quella che si prospetta per il Civitavecchia a calcio. Dopo le parole di ieri dei due maggiori protagonisti di questa telenovela, ossia l'attuale patrona Adriano Clemeno e il candidato presidente Francesco De Pasquale, che hanno fatto chiarezza sul perché del blocco della trattativa, una cifra che Clemeno vuole da De Pasquale, ma che questo non vuole versare, visti gli ingenti debiti di cui si farebbe carico, arriva oggi un commento anche dal sindaco Tidei. Clemeno ci deve far sapere come intende scrivere la squadra in Serie D, se non lo farà gli chiederemo i danni, anche perché a suo tempo gli avevamo proposto una soluzione. Lui però si è fatto illudire dalle chimere di Moscherini e del noto scienziato Melchiorri. E sempre sulla vicenda del Civitavecchia a calcio intervengono anche i tifosi della gloriosa società nera-azzurra. I fan infatti hanno organizzato per oggi alle 17 un sit-in davanti al Comune per esporre le proprie ragioni affermando in coro ancora una volta il loro grido di battaglia, ossia rispettate il Civitavecchia a calcio. E parliamo di pallavolo, ancora incerte le panchine della CV Volley. Per quanto riguarda la formazione di Serie C maschile di pallavolo, Franco Accardo si allontana, visto che ci sarebbero degli ostacoli troppo difficili da superare. Per quanto riguarda la B2 femminile, invece, il nome nuovo è quello di Antonio Tropiano, tecnico toscano con la quale la Comal sta colloquiando. Ancora ottime notizie per quanto riguarda la pallavolo giovanile Civitavecchiese. Alessia Arciprete e Siria Tangini, infatti, atlete cresciute in casa ASP, hanno appena concluso da titolare il trofeo delle regioni con il Lazio, dove si sono messe in mostra con ottimi numeri e complimenti da parte degli allenatori regionali. E parliamo di pugilato. Infine, Emiliano Marzili, pugile Civitavecchiese, campione del mondo dei leggeri Aibo, rischia di perdere il titolo conquistato a gennaio in terra inglese contro il padrone di casa Derry, Matthews. L'atleta, infatti, entro nove mesi dalla conquista dello scettro, deve difendere la sua corona. Va da sé che il termine ultimo entro il quale Marzili potrà difendere la sua cintura è il mese di ottobre. Il problema nasce dal fatto che in questo periodo anche Gianluca Branco, altro stimato pugile Civitavecchiese, avrebbe dovuto combattere per un'importante competizione, ossia per il titolo VBC Silver. I due avrebbero potuto accordarsi e fare un grande evento a Civitavecchia. Così purtroppo non è stato e addirittura Marzili è stato costretto ad emigrare in altre palestre per allenarsi, viste queste incomprensioni, perdendo anche il suo storico maestro Mario Massai, rimasto alla corte di Branco. E noi ci fermiamo qui, come al solito, la nuova edizione alle 19.45. Grazie per l'attenzione e arrivederci. Grazie per l'attenzione e arrivederci.